Carolo Manto e Armada Desideri, un progetto di piano e voce, non è una novità per te avere questo tipo di duo, ma la novità è il fatto che tu abbia una pianista donna. Fra l'altro mi piaceva molto, a parte appunto la persona in particolare, Armada che è una pianista veramente splendida, bravissima, è un livello molto alto, ma la cosa particolare e interessante era anche il fatto che generalmente il cantante è una cantante donna e il pianista è un uomo, invece in questo duo è il contrario, il cantante è un uomo e la pianista è donna. Finalmente, rigiriamo i ruoli. Il repertorio, è un repertorio che hai scelto tu, hai scelto lei, vi siete venuti incontro, avete studiato apposta qualcosa? Sì, il repertorio chiaramente è partito un po' da me, ci sono delle cose mie originali, dei brani proprio mie originali e poi abbiamo attinto a cose varie, e ovviamente in questa cosa mi è venuto incontro anche Armando, abbiamo anche trovato delle cose che ci piacevano e abbiamo scelto un repertorio molto particolare. Il progetto è abbastanza vario dal punto di vista musicale perché è sicuramente un lavoro sull'improvvisazione e sul jazz, però è anche molto contaminato da situazioni anche di world music e facciamo anche dei brani di artisti invece del rock, per esempio facciamo un brano di Pink Floyd, facciamo un brano di Peter Gabriel e quindi insomma è una cosa molto abbastanza varia musicalmente, però sempre ovviamente con il filo conduttore dell'improvvisazione e del jazz, insomma che poi è la cosa che mi caratterizza. Quindi questo non è un progetto casuale, insomma un tentativo occasionale di avere un rapporto con una pianista donna, ma insomma è qualcosa che va costruito e che vorrete portare avanti. non è una cosa casuale, è una scelta, diciamo la scelta principalmente di Armando non è perché è una donna, ma è perché suona benissimo il piano ovviamente, quella è la cosa che mi... Poi chiaramente il fatto che do la fa piacere, però non è stata certamente quella la prima cosa, la prima scelta insomma. La prima scelta insomma. La prima scelta insomma.